L'Associazione Pediatri Italiani ha assegnato anche quest'anno la bandiera verde al comune di Termoli. Ancora una volta, come avviene dal 2012, la località di Mare Molisana soddisfa quei criteri specifici che la fanno considerare a misura di bambino. Tra essi, spazi adeguati tra gli ombrelloni, zone per il gioco libero e sicuro, un mare non subito profondo, assistenza ai bagnanti e attrezzature dedicate ai più piccoli. Questo riconoscimento, ha detto il sindaco Nico Balice, è motivo di grande soddisfazione e ci induce a voler fare sempre meglio per offrire a residenti e turisti servizi migliori riservati alla balneazione con particolare riferimento ai bimbi. Balice ha voluto anche ringraziare tutti gli operatori turistici che collaborano con l'amministrazione comunale. Il vice sindaco e assessore Michele Barile ha sottolineato l'importanza di questa riconferma. Termoli è località bandiera verde dal 2012 e ha commentato in questi anni il vessillo non ci è mai stato negato a testimonianza dell'impegno che ogni giorno mettiamo in campo a sostegno del comparto turistico. Termoli è l'unico comune molisano a ricevere il riconoscimento. Quest'anno 147 spiagge italiane hanno ottenuto la bandiera verde insieme a otto località estere. Nei prossimi giorni l'amministrazione comunale consegnerà ai balneatori termolesi la bandiera verde da esporre in tutti gli stabilimenti, rimarcando l'impegno continuo per la qualità e la sicurezza delle spiagge locali.